Siamo in area DOX a Brescia e io sono Meri Marzari, l'ideatore della Wish Travel Bag. Qualcuno mi chiede, Meri, com'è fatta l'interno della Wish Travel Bag? Intanto ci sono due comode zip per poter eventualmente anche mettere un lucchetto quando siete in viaggio. All'interno ci sono sei comode tasche che potrete utilizzare per metterci dentro un libro, le chiavi, una bottiglietta d'acqua, quello che volete. Questa all'interno della Wish Travel Bag. Sei tasche!